Sono arrivati a Pistoia a piedi con il cammino iniziato dal Duomo di Prato e concluso alla cattedrale dedicata a San Zeno. Per celebrare San Giacomo Apostolo, patrono della chiesa pistoiese, il vescovo Giovanni Nerbini ha scelto di fare un pellegrinaggio tra le due diocesi, vicine e un tempo unite, insieme ai due neodiaconi e a due seminaristi pratesi. Bastone in pugno e zaino in spalla, il ha vissuto nel cammino e nella preghiera l'invito del vescovo Fausto Tardelli a condividere la tradizionale festa patronale di Pistoia. Noi ci collochiamo sempre sulla scia di una delle grandi tradizioni della chiesa che è quella dei pellegrinaggi che da sempre hanno caratterizzato la vita del popolo cristiano. Arrivare a Pistoia ricordando e celebrando l'Apostolo Giacomo è un modo per riscoprire le radici della nostra fede, ricercare l'autenticità non solo della nostra vocazione ma anche del nostro impegno pastorale. In preparazione alla grande festa patronale del 25 luglio, a partire da sabato scorso, ogni giorno alle 18 c'è un vescovo a celebrare la messa in cattedrale. Ieri è stato Monsignor Nerbini a presiedere la funzione. Oggi riscoprire questa dimensione comunionale della chiesa e quindi dell'essere tutti insieme uniti nella preghiera, nella carità, nell'evangelizzazione direi è uno dei grandi segni dei tempi che ci è obbligatoriamente richiesto a tutti. Tra i vescovi invitati a presiedere la messa ci sono anche Monsignor Gastone Simoni e Monsignor Franco Agostinelli, emeriti di Prato. La chiesa pistoiese sta vivendo l'anno santo jacopeo e per questo le tradizionali celebrazioni patronali quest'anno sono ancora più solenni.